ciao elena siamo qui per maria ciao via madre di dio preghiamo così poi mi scrivono le suore i cattolici dicono che ha detto che loro hanno ragione magari ragione io ti ho ragione io non dovrebbe mettere anche spartito preso che loro hanno ragione ma chi l'ha detto va inizio tu l'angelus iniziamo conto da 5 15 4 3 2 1 ma dimmi come la vedi e lei in questo tipo una piccola piazza sia una piccola piazza e sta lanciando a terra della pc mi dice e serve per far scivolare le interferenze ti dà l'autorizzazione vibrazione 7 miliardi e mezzo consapevolezza 138 per cento piazza 41 vite 1678 cervello 8.9 va bene e visto che parliamo di entità e maria ha tanto paura delle entità le chiamiamo le teri che se ci sono quanto questa è una seconda sessione la prima è stata molto vecchia vediamo se ci sono nuove interferenze allora si ce ne ci sono queste secondo universo ce n'è una un po più grande e due più piccole dietro che sembra sembra una specie di piccolo serpente piccolo proprio corto ok tutto nero grigio con un mantello ma in piedi o in piedi in piedi non ha la faccia da serpente alla faccia più umanoide c'è proprio la forma tondeggiante con la bocca il naso due occhi ma tutto il corpo come se fosse un serpente corto molto corto con un cappuccio nero nero grigio e gli altri due sono uguali più piccoli sono tre del secondo universo poi e poi c'è un leonide nero con dei canini un po più accentuati rispetto a un leone ecco poi poi c'è c'è una mantide con due grigi davanti poi e poi ci sono quelle mentali vediamole allora c'è una di livello quella di livello 4 direi la possiamo chiamare nebbia bianca che è come se tutte le volte che maria comunicare diciamo tutte le volte che maria vuole mettere un enfasi di comunicazione più cioè tutte le volte che lei deve come intento vuole trasmettere una cosa per far cambiare una situazione quindi la vedo soprattutto per quanto riguarda il lavoro o comunque anche la parte economica mi viene da dire tutte le volte che lei deve comunicare qualcosa per far cambiare la situazione viene avvolta da questa nebbia bianca e quando quando è come se le andasse in una specie di ipnosi e quando si risveglia è tutto un casino fuori l'immagine è un po questa poi la seconda poi c'è n'è una di secondo livello che la potrei chiamare frenesia l'immagine che mi fa vedere lei all'interno della della sua casa e se no all'interno della sua casa e quando è in questa situazione è come se fosse portata a mettere tutto a posto mi viene da dire con una certa velocità ma questo fa sì che invece che diciamo fa più caos che ordine con questa modalità e poi ce n'è una di livello 6 che come non ne viene la mente del mentale è come se si duplicasse è presente come se come se fosse in una stanza dove le pareti sono tutti specchi ok quindi quell'immagine lì quindi l'utilizzo del mentale viene replicato all'infinito queste tre erano così alla prima sessione 4 2 6 allora la 4 era 3 e la 6 era 6 e la 2 non c'era sì c'era la 2 era uguale 2 quindi solo la 4 era più bassa le altre quali ok e non sono state viste no ok impianti allora ci sono due ganci qua come se fossero due anelli ok attraverso il quale vengono attaccate delle cime delle funi di metallo sembra interico ok con la quale viene viene trasportata elettricamente o fisicamente allora etericamente ma è come se nel fisico c'è non sono abduction ma nel fisico si riflettono come se lei non potesse fare a meno di andare in una certa direzione è una direzione applicata fisicamente anche poi poi allora poi c'è questo impianto mentale che sono dei cerchi concentrici come se fossero dei neon a forma di cerchio concentrici proprio al centro della testa si illuminano tutte le volte che entità mentali agiscono poi la sulla schiena dove diceva lei io vedo più che altro vedo come se ci fosse una macchia più chiara se è più un chip è un chip di trasmissione di ricezione trasmissione come se ricevesse dei comandi soprattutto quell'entità che la volge la manda quasi in uno stato ipnotico nonno quasi non cosciente manda le informazioni attraverso questo chip però da dire prendono anche nome del progetto di maria canale obbligato cioè come se fosse un canale con delle pareti di metallo che è infinito dove lei viene mandata quindi in eterico c'è questo spazio nero questo canale con queste pareti di metallo e lei viene spinta all'interno di questo canale ok ogni tanto viene deviata e quelle sono le abduction in queste postazioni dove in ogni postazione agiscono su una parte diversa del corpo prendendo dei campioni e mandando alle cellule di quella parte una certa informazione per poi vedere le 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 reazioni è presente come la serie script game che c'era non so adesso se la prima puntata qua o le prime non lo so che erano tutti che danno tutti in fila spinti in questi corridoi no padre sorella se se il corale che girano in tondo di adesso ho visto questa cosa no no sono nel mondo le pecore e i cervi di una penisola su che girano in tondo da il branco gira in tondo è una forma di protezione del branco che avviene quando l'animale sente pericolo che vengono nel centro del tondo che gira in tondo anche loro girano intorno anche loro sono femmine gravide i piccoli e all'esterno il per una forma di protezione di persone di poli che arrivano gli alieni che ci sono già annunciano alla rai piccolo riassunto le giornate precedenti si è stato ce ne frega niente maria ma che cattive brutte che sono queste interferenze ama come è fottuta acqua e sale quando mette l'acqua e sale si sente particolarmente toccata e attaccata il sale sale e esce dalla mattina esce dal bicchiere o si trova sul bordo fisicamente non è possibile che succede cause esoterica mentre prima non raccontava era come se vedevo che le interferenze veniva attratte verso questi posti verso questo il bicchiere contenitore con l'acqua e sale ok veniva tratta e poi era come se spingesse la era come se l'energia della di interferenza si accumulava all'interno del contenitore ok quindi prendeva posto insieme all'acqua e spingeva fuori il sale quindi non ho capito che chi è che fa questo processo lei lei con l'acqua e sale è come se avesse attivato inconsciamente avesse tirato inconsciamente un'azione che lei convinta sia l'acqua e sale ma realtà è quello che lei fa con l'acqua e sale e cosa fa praticamente fa tipo le 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 trappole che sono i ghostbusters tra virgolette c'è questo contenito ok l'acqua interferenza viene attratta nel bicchiere o nel contenitore boll immagini che un bicchiere e entrando nel bicchiere prende posto nel bicchiere insieme all'acqua e spinge fuori il sale che fa tipo tappo lavanda la lavanda è come se lei inconsciamente la usasse per mi viene da dire purificare profumare no quindi toglie questa sporcizia che le sporca l'ambiente non è ancora questa cosa se l'alcol e sinnetirico vedo che quando lei passa l'alcol è come se togliesse uno strato di di sporco che viene fatto dalle interferenze no come se le come se lei togliesse le interferenze che come se si fossero appiccicate sui sui sanitari del bagno con l'alcol e le stacca li toglie causa sottica dei problemi nel negozio allora quello che mi viene è che c'è un uomo una persona un uomo che è legato all'ambiente dove lei al negozio alla l'edificio e ha capito chi è che a livello energetico la boicotta quindi è come se riuscisse in qualche maniera a maledire il suo lavoro quindi fa fatica proprio vista c'è invidia come se volesse che questo posto fosse liberato che serve a lui o lo vuole libero ma chi è è uno brele ha capito che ok chiamiamolo nel cinema no non viene ma ha paura ora di cosa che lei le faccia qualcosa no nel cinema si mettono le cose così come sono nessuno fa niente a nessuno è come se visto che lui la fa la paura che venga diciamo attirato in una trappola dove gli viene fatta una ripicca dice chiamiamo nel cinema la il figlio ci viene se si compri una fila in prima fila è tutto molto contento e entusiasta ti saluta ti saluta e fa forte la sorella si è in terza fila allora molto contenta di essere qua ma quasi timorosa di vedere quello che vedrà nel senso vedrò qualcosa che farà diciamo consapevolizzare delle cose quindi mi butto nel senso ho lavato la stacca ecco nel senso se sono pronta ma ho un po di ansia ecco una cosa così compagno tri vacci e tridici vaccato si è in prima fila lì mi sembra che in fondo in fondo è come se si fosse reso conto della cavolata che ha fatto non lo vuole non lo dice a maria ma se non è un tempo imbarazzato fratello tratta la stessa sotto dietro al figlio di maria amica un prima fila anche va bene e tutti quelli che vogliono venire nel cinema c'è qualcuno in più se due per due donne che conosciamo e poi ci sono un altro otto dieci persone donne che conosciamo non c'è anche maria non lo so non penso se io e te ma chi sono amici sì perché sono venuti tutte perché appena possono prendi colgono l'occasione di entrare nel cinema hanno sentono come l'esigenza di esserci più spesso possibile va bene chiamiamo invece disincarnati portale aura tutti tutti i parenti di maria all'appello una mi dice scusa una mi dice che magari può uscire qualcosa per alzare la vibrazione di questa città perché ma di bergamo la stanno tirando giù è troppo pesante beh se vogliamo la pandemia in chi è nata da lì è nata da lì più o meno no ma di lassi però c'è di mezzo bergamo sia da cura che dovuto ok quindi una l'ho capita l'altra non ho capito chi è totale aureo sopra la città di bergamo tutti disincarnati di questa città e le mitrofe zone di mitrofe tutti disincarnati delle tutte le generazioni di maria e davanti al microfono sul palco il l'amico del figlio e il socio l'amico del figlio arriva con una chitarra sono la chitarra e dice di qua si sono molto più facilmente si può suonare a lungo pronto sì sì e poi e invece il socio mi fa vedere questa roba che la inorridito il conti è rimasto incastrato in questa scena mi viene da dire ed è inorridito spaventato dove come se aprisse una vena ok e il sangue si trasformasse in esseri verdi con una lingua multiforme piccolini e però che sangue fosse fatto di questa roba qua continua a fare la stessa scena e non ridirsi ok diamo a entrambi una vick vibrazione informazione consapevolezza una sorta di supporto per comprendere che questo è un gioco ok l'amico del figlio cosa vuole dire a qualcuno o al figlio di maria se la prova tradurre perché è come se mandasse un'immagine più che parlare manda questa immagine come se fosse una nuvola bianca come se soffiasse una nuvola bianca che poi diventa molto lucente allora il senso è ho visto il gioco o l'informazione e voglio trasmetterti al figlio di maria voglio trasmetterti la leggerezza prova a percepire la leggerezza così magari tu giochi più in maniera più leggera come ne ho carichi e il socio il socio è uscito dal terrore si è accorto che stando in quel gioco provava terrore ecco la cosa che mi fa nota vedere c'è ma ha fatto questo discorso no quindi ero nel terrore sono uscito dal terrore c'è l'informazione e mi mostra il terrore e me lo mostra come se fosse anche questo un codice della matrix mi fa vedere sul suo palmo della mano come un come se fossero dei numeri lettere incastrati tridimensionali piccolini e dice questo il codice del terrore e adesso cosa ne fa di questo codice voleva mostrarlo a noi ma lo manda ha capito della sua informazione esatta molto interessante che ha un numero come fatto perché questo è completo trattivi ecco adesso no infatti non venivano più ok gli ho mandati come fatto questo codice del terrore vuoi saperle lettere i numeri ci sono l poi c'è una j al contrario quindi perché come si diventasse una una striscia tridimensionale no ma sono lettere i numeri che si incastrano in maniera tale da fare una striscia quindi c'è una l poi c'è una j al contrario poi c'è l'un 3 1 1 la ho poi una t la p al contrario 7 6 8 q ok lo stesso codice ma con per esempio la q finale che diventa r che cosa malinconia ok e facciamo una cosa questo codice ovunque nella matrix se diciamo creatori abbiamo creato il nostro essere ce n'è rotti e cazzo adesso noi si cambiamo il codice del terrore che ha funzionato molto nella pandemi minchia molto molto bene il codice della consapevolezza quello più potente le cose stanno così se adesso poi titico un'altra cosa che ho visto è arrivata può dire adesso sì 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 allora questi codici ecco perché ve l'ha fatto vedere sotto forma di codice soprattutto oggi perché assomigliano molto ai codici che sono molto più lunghi che usano ora per per quanto riguarda le cripto valute tutta la funzione il funzionamento diciamo con le block cene block c sono come codici simili a questo qua non ho fatto così non è che non si girano le altre numeri però è proprio una sequenza di lettere numeri molto più lunga quindi quello che io vedo adesso è che anche quei codici di sono informazione ok abbiamo sostituito i vari codici se quello del terrore con quello della consapevolezza si sono partita da bergamo e poi l'ho diffuso in tutta italia e poi adesso in tutto il mondo sto modificando lo sto sostituendo ok abbiamo modificato il codice una parte del codice del gioco il codice del terrore è inutilizzabile perché ogni volta che viene riproposto dalle entità noi che siamo i creatori siamo sopra le entità vengono lì automaticamente abbiamo messo l'imposizione che si sostituisca la consapevolezza questo non vuol dire che uno vuole essere in preda al terrore non lo può più fare lo fa ma consapevolmente quindi vede barbara d'urso che si lava le mani e lecce è una o mi faccio prendere dalla paura e vado a lavare le mani lo decido io non per forza sono in preda al terrore e la televisione dice la verità no io sono consapevole che posso scegliere vado dietro sta scema oppure no questa è una cosa ben diversa quindi libera vitrio assolutamente risultato se siamo tutti contenti molto bene schermo della del pc quando lei lavora vale lavora insomma che diventa tipo lo schermo con i codici verticali della trix causa esoterica allora è la sua ps è la sua ps che gli dice interrompi questa cosa è come se le dicesse quello che quello che tu stai facendo quel momento stai pensando o che devi andare a fare tra poco mi viene queste tre cose qua non è interrompilo è come se gli facesse un messaggio shock un allarme quindi è qualcosa legato al momento in cui gli appaiono ma di volta in volta ha un significato diverso di volta in volta ha un significato diverso ti direi per quanto riguarda allora mi vengono queste cose delle scelte finanziarie per quanto riguarda lavoro qualcosa che deve dire o fare riguardo a quella persona che la vuole boicottare nel negozio e riguardo a quel ragazzo che è lontana la presunta ferma quindi sono messaggi della ps non sono interferenza e energia letto che si sono un po risolto però assente delle energie strane è soggetta a un progetto di abduction se se quelle tutte le volte che nel quando è in quel canale dove viene viene deviata ok entra in uno dei laboratori che dove analizzano una parte o un tessuto del suo corpo ogni volta diverso queste sono le abduction va bene causa esoterica del soletico alle orecchie ma è come se ci fosse un un esserino bianco come se fosse un battufolo vivente no che gira dietro e gli fa proprio come per ridere c'è gli fa uno scherzo ma non gli risponde secondo ai grigi e alla mantide cazzate quindi mente vuota allora la mente vuota all'entità mentale di livello 4 quella che le fa la nuvola intorno sbadiglia quando guida ma non credo niente di così esagerato va un po più nel mentale quindi direi eccoli può essere allora sto guardando alcuni episodi e allora mentre guida lei si spesso si concentra su una cosa magari importante che deve portare a termine nei giorni successivi ok quando sbadiglia viene tolti solta da questa programmazione perché io sbadiglia in sessione allora quando tu sbadiglia come se strutturassi un canale mi viene dire un ambiente isolato concentrato di vibrazioni che vanno tutte nella direzione che stai seguendo sono se sono riuscita a renderle via di uno sbadiglio maia in vita nelle mie vita normalmente dormo bene nessun problema però sono tanti sbadigli e durante l'inizio della sessione dall'inizio va bene nuovi inviti al cinema dunque uno per la signora del canale che parla di fiamme e che ha in copertina un bell'occhio che tutto vede e uno per la presunta fiamma quello di vent'anni più giovane allora la signora viene non è consapevole di chi canalizza e canalizza un pleiadiano vestito da santone indiano vabbè non ti scaldare così tanto maria non seguirla basta fine mondo è pieno di qui siamo nelle differenze mettetevi non passare il tempo a preoccuparsi delle interferenze bisogna bloccarla ma chi l'ha detto le diamo un regalo facciamo dei regali noi siamo babbo natale e babba natale ilena giusto visto che lei ha tanti iscritti e non ha nessuno problema di disiscrizioni da algoritmo di youtube cedendo invece a me che va su van giu van su van giu van giu van giu mai siete iscritto nessuno in un canale youtube solo a me si descrivono poi involontariamente perché lo se lo si ritrovano ti si sa mi hanno detto svariate decine di persone ma io ho iscritto chi è che mi ha disiscritto è l'algoritmo per potermi poi vendere l'advertising bene mettiamo un bello ad eternum sul canale di questa signora che non può che aiutarla no decisamente grande energia nel canale di questa signora ma sei ma la fede mi sa che qualcosa di male qualcosa di storto andrà viene nel cinema la signora siete detto non è consapevole c'è cosa per canalizzare ma non di canalizzare diciamo molto più causata quindi una bella indagine del gruppo dei militari che fa questo lavoro invece su sulle fiamme mi porta a pensare che o vengono dette balle come questa cosa della signora o il gruppo dei militari che fanno il lavoro letterata no butta discredito un interferenza la fiamma ai 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 non ci sia bene l'argomento del secolo l'argomento degli argomenti e questo quello la è la fiamma di maria allora no l'ho già visto prima anche qua è come se c'è di nuovo ci mettono mano i pliardiani l'ho già visto prima allora lui è trasportato inconsapevolmente in alcuni momenti verso maria proprio come se veramente come se fosse l'unica donna possibile nella sua vita ma è un abbassamento improvviso delle vibrazioni ti posso proprio dire che in eterico e come se questo biondo non è non è a star c'era ma molto simile come aspetto è come se entrasse gli abbassano le vibrazioni tantissimo entra in lui e si fa trasportare verso maria esiste la fiamma di maria allora ce ne sono tre grezze ma sono molto grezze perché sono riusciti a portare la sua consapevolezza su un'altra parte quindi come se vedo che a un certo punto aveva iniziato a fare un certo lavoro di consapevolezza proprio vivendo no nel suo vissuto senza che fosse lei focalizzata sulla fiamma ma come consapevolezza nel suo vissuto stava andando da nella direzione giusta ok c'erano dei punti fermi che lei aveva che erano molto efficaci per andare nella direzione della fiamma ma poi a un certo punto è stata trascinata tutto in questo vortice che c'è come se abbassassero le vibrazioni in maniera molto brusca ok quindi risucchiata in questa un vortice energetico che proprio sto capendo ma di queste persone no 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 l'entità che che portano che collegano quel ragazzo a maria ok ma quel ragazzo ha fatto la tattica del se una persona incredibile però c'è questo investimento da fare perché stiamo parlando di trading con altri anche se è come se lui ce lo fa consapevolmente ma è come se gli fosse stato inculcato nella testa che quella è la via giusta il trading sia a fregare le persone con con questa modalità le donne con questa modalità ma in quel momento lì è come se c'è lui lo crede lo sente veramente ma lui sa che quegli investimenti che sono andati male andare sarebbero andati male no è come se lui è come se gli dicessero sono degna di avere il tuo prezioso consiglio perché guadagnerà dei soldi si poi però non succede no non succede il contrario se se gli viene il sospetto infatti poi mi sembra che si è spostato no poi dopo in qualche maniera di riescono a si coinvolgerlo per un po finché poi si sgancia ma usano altri mezzi e c'è finora mentre ferito si è interesse ascolta questa sessione cos'è a questo eco terrificante sono amici da un gruppo di militari e letterata non è la fiamma no si muove in maniera come dire consapevole che cioè non si muove in maniera truffaldina no è semplicemente non comprende che quello che lui sta facendo fa del male che sta male anche lui poi alla fine cosa sentito però maria che ha avuto particolari momenti di passione di coinvolgimento non si è mai sentita in questo modo che è successo si è come se creassero questo vortice energetico molto forte e quindi come c'è a livello energetico come se tu facessi sei su un ascensore fai 100 piani in un secondo proprio un risucchio vedo proprio risucchiata a livello energetico così in un canale nero buio che fa così tra lei non lo sente come canale nero lei si sente solo trasportata con questa energia fortissima sia una cosa che non ha sentito no va bene adesso ne toglieremo tutto è appunto a capo lei passerà tutta la vita a temere le interferenze l'ha già detto no ci rivedremo tanto mi riattaccherà bene male perché la visione non è questa la visione è quella della consapevolezza la consapevolezza prima di tutto di quello in cui si è immersi siamo immersi in un ambiente finto videogioco o lo grafico dove siamo soggetti a interferenze quindi non c'è scampo quindi la ps brutta e cattiva no è un gioco bisogna innanzitutto capire che noi siamo i padroni del gioco tutto quello che ci succede lo vogliamo noi dare potere alle entità è la peggiore delle cazzate degli autogol che si può fare la dava potere infinito l'entità l'entità sono siamo fottuti l'entità l'entità ve ne dovete sbattere i coglioni non dire parola c'è il nato lo detto la prossima vorrà fuori e dovete sbattere i coglioni i coglioni ve ne dovete sbattere e dovete iniziare a creare il negozio non va cambia lavoro ipotesi oppure a me ma ci tieni ma ci tengo allora non ci sono anche a conferenza e lo mi manda l'energia negativa sbattitene i coglioni perché se inizia a dire quello che ne so chi non so chi sia questo qua diciamo che uno che abita sopra e al negozio e che vuole che sto negozio se ne vada però un bel cinese di massaggi bel cinese che fa un bar con caffè schifosi ok contento e tu passi la vita a preoccupartene chi dà il potere e l'entità che sono lì a fare quel lavoro lì lavorano rimettono impianti quelle sono solo lì a fare quel lavoro lì momento in cui tu dai alle entità attenzione perché questa è importantissima dai all'entità il l'illusione di essere i creatori loro sono i creatori poi si muovono bene nella matrix che è finta e che è olografica un programma eccetera ci metto tre secondi e l'ha un fatto ecco maria non ha capito un cazzo è di nuovo lì e dice io poverina adesso devo fare l'acqua e sale ma l'acqua e sale di che l'acqua e sale di che se tu che crei tutto per questo che le fiamme sono grezze non l'hai ancora capito la fiamma e tu la crei tu la desideri tu è però c'è un lavoro di grande consapevolezza diciamo che se quello che la svia molto dal creare e dal centrarsi sulle vibra ad alzare le vibrazioni e sono quelle che lei si è creata diciamo le entità mentali che la fanno entrare in un turbinio di accelerazione e miscuglio confusione ok in maniera tale che ogni volta che lei riesce a centrarsi viene sviata se le create lei ovviamente ma proprio quell'aspetto lì vediamo il codice della consapevolezza quello che abbiamo sostituito al codice e le lettere i numeri rt 962 seta a w m 7 8 e ok facciamole fare una maglietta si faccia una maglietta con questo codice sopra lei come cambia con questa maglietta indossata le facciamo indossare sposta tutto c'è lei cammina provano arrivare le interferenze ciao no le situazioni per fermarla le esposte spariscono e bianca la maglietta con questa scritta viola fluo mi viene da dirvi ho letto di sempre ho letto lilla fluo ok provano a ostacolarla col nero le esposta tutto proprio dritta e sposta tutto gliela facciamo costruire in tante copie e gliela facciamo offrire una al figlio che secondo me se ne fotte già abbastanza delle differenze è così ho questa impressione se 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 non c'è sapeva già cos'era e saltella con qualcosa consapevolezza in mano una alla sorella chi l'accetta se la mette chi non l'accetta no se la possono anche mettere nel sacchettino accanto buttarla non accettarlo sono tra l'altro voglio la sorella se c'è la mano dice la letta non la metto gli manca un figlio di coraggio molto indecisa però la tiene la il compagno compagno diciamo assoluta e cagate il fratello adesso non so se affigliano al fratello mi dice ne voglio uno per mio figlio anche non li ha perché dice così forse che il figlio di un'altra vita in questa è solo per dire quella cosa lì sì perché si medesima proprio se va bene a tutti quelli di bergamo piaggio di magliette sulla città ma lei se l'è messa maglietta sì 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 già prima offriamo la i due disincarnati che sono rimasti ancora lì l'amico del figlio e il socio la prendono dicono sì sappiamo già fatti avevano le cose fatte li salutiamo quanti dei parenti di maria vanno nel portale aureo 136 ok più i 238 da maggio quanti di tutta la città di bergamo allora arrivano sono arrivati prima un gruppo proprio di diciamo di questa generazione 200.000 di questa generazione degli ultimi tempi e si vedrà di questa vita diciamo e in totale 6 milioni e mezzo ma via tutti ciao ciao chiudiamo il portale aureo a una vibrazione adesso bergamo volta sì ce l'aveva molto 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 bassa sotto era tra 4 500 milioni adesso è 890 milioni milioni si alzerà nei prossimi giorni se si sia un po si grazia cosa abbiamo tolto un po di energia da mangiare negativa molucca è un po dalla città di bergamo è un po di età sì va bene andiamo di nuovo al cluster con maria la sua maglietta finalmente le ha capito come stanno le cose come vedi contratti perché perfetto sì allora c'è tipo un uno scaffale ok però ha fatto tipo come se fosse sembra potrebbe sembrare tipo un pino no come forma quindi a spicchi con gli scaffali in mezzo e su ogni scaffale c'è un quadretto con dentro una pergamena che per ogni vita li lascia li toglie cosa fa adesso aperto un portale definitivo resta votando ci dentro ok consapevole di quello che è una d'eterno ma maria che la prima sessione non c'era che vede che quando vede le nostre sessioni tutto quello che non andava scompare come se dice il video producesse una d'eterno bene adesso impara a produrlo lei senza bisogno di video se l'ha fatto dove lo mette allora è partita a farlo da terra proprio quasi come di nuovo riprodurre questa forma un po stilizzata di un pino povertino ok poi si è sempre più illuminati diventata luce bianca in tutto il cluster ottimo risuona con la sua maglietta se sì assolutamente avatar allora allora non è non è completo ma si vede proprio che una gran parte di avatar si è ricreato no a differenza di altre volte che facciamo una sessione con persone che l'hanno già fatta di solito vedi solo degli spicchi qua c'è ci sono solo dei buchi vuoti dove lavata non è riuscito a ricrearsi ma diciamo in generale la figura c'è non è attiva non so come dire c'è dovrebbe essere completa per essere cioè funziona lo stesso ma per far sì che che si muova mi viene da dire deve essere completa invece così c'è solo diciamo la figura non completa e agisce in questa maniera via tutto una reterno ma che qua luce si dico via tutto è una detta ok l'ha fatto molto simile a quello di prima benissimo con questa condizione canale obbligato obbligato c'è ancora no le interferenze eteriche e mentali ci sono ancora no impianti che abbiamo visto giusto ci sono ancora il chip sulla schiena mi sembra che lei durante la tua esposizione mi faceva vedere non ci sono più no ok quindi giustizia è fatta lascia un messaggio a se stessa maria dedica molto più tempo durante la giornata al lavoro su di te sulle tue vibrazioni a sentire aumentare le tue vibrazioni quello ostacolerà e che dirà all'interferenza caos e frenesia di tornare questo messaggio principale e poi un'altra cosa dice segui fatti trascinare più spesso dalla dall'entusiasmo e leggerezza di tuo figlio fatti proprio portale dice vuole lasciare un messaggio al figlio diretto allora lo prende per mano così con tutte e due le mani lo porta vicino a lei e poi gli disegni un enorme cuore d'oro intorno diciamo lo mette dentro questo cuore d'oro bello come per dire sono pronta a giocare con te ad alzare le vibrazioni ti farò vedere come alzare le liberazioni fino alzare diventare questo cuore d'oro molto molto bene ok abbiamo finito nel cinema che succede chi se ne va a finire contento e felice dalla visione del film sì 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 praticamente tutti quelle persone in fondo molto incuriosite sì praticamente tutti il compagno è come se si trattenesse cioè si vede che è tranquillo non è arrabbiato non è stizzita non è solo difensiva no però si tratti come se si trattenesse come se fa ancora fatica a dargli la vinta tra virgolette dire avevi ragione ecco non so come dire questo non è altro diciamo lei come la vedi lei la vedo come se fosse a livello energetico molto grande e fa dell'evoluzione su se stessa mandando vibrazioni alte sotto forma di energia che come quasi come se fosse tipo delle stelline di carta no così e continua a girare mandarle intorno a sé ok può modificare la grafica del suo della sua maglietta dove c'è solo un codice della consapevolezza aggiungendo questo bel cuore infiammato ma è un cuore con una parte interna piena di fiamme o il outline cioè hanno a tutto pieno tutto pieno di fiamma un richiamo alla fiamma è un richiamo a tutta tutta quella energia dell'amore anche la fiamma ovviamente la fiamma l'esperienza concreta di quella morelli quindi cioè nei progetti di maria quello della fiamma e sì era proprio perché su il suo intento anche inconscio era proprio in quella direzione di che sono riusciti a trasportarla interferendo la così tanto va bene disconnetti da tutto e tutto